I nemici dell'Europa sono coloro che sono asserragliati nel bunker di Bruxelles. I nemici dell'Europa, dei popoli europei, della felicità dei popoli europei sono quegli Juncker, quei Moscovici, che hanno portato precarietà e paura in Europa e si rifiutano di mollare la poltrona. Stiamo lavorando per restituire il futuro a 500 milioni di cittadini europei, francesi e italiani in primis. L'Europa ha una visione dell'uomo non voglio pensare che a Bruxelles, a Berlino o nelle sedi dell'agenzia di rating siano pronte delle bocciature per motivi politici e non economici per bloccare un governo del cambiamento che può essere un modello di cambiamento per tutti i paesi europei. che hanno ottenuto lo status di rifugiato. E quindi questo è di tenere un bel. M. Bannon non è issu di un paese europeo. Il è un americano. Il ha suggerito la creazione di una fondazione che vise a offrire, in fatto, ai partiti suverainisti europei dei studi, dei sondaggi, dei analisi. Ma la force politica che metterà dei elezioni in Europa è noi e noi soli che la strutturiamo. Car noi siamo attaccati a nostra libertà, attaccati a nostra sovraintà e che noi, insieme, representanti dei diversi popoli in Europa, che strutturiamo la force politica che vise a sauver, precisamente, l'Europa. Che le cose sono estremamente clare su questo tema. Grazie.